Il nostro, i nostri pesi elastici e adesso andiamo a cominciare con il nostro bellissimo part-lick, ok? Prendete, ci avete 38 secondi, bevete un po' di acqua, allora ci serve i pesi, ci serve i elastici, ci serve il tappetino. Part-lick è piramidale, oggi facciamo 10 secondi, 20 secondi, facciamo una bellissima piramide di lavoro. Siamo pronti, 20 secondi, la prima sarà proprio maniac, 10 secondi, sto più lavorando più velocemente possibile. Penso, she's a maniac, maniac on the floor. Ci siamo ragazzi, della bellissima Forte Venture, 7 secondi, ci siamo ancora. 4, 3, 2, 1 e vai, 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 vai. Come on, usa quelle gambe, usa quelle gambe, sei secondi ragazzi, muovi le braccia se necessario, due, uno vai, dieci secondi prossima sarà il jumping jack jumping jack biometrico, ok ci siamo quattro secondi, tre, due ok, apro e chiudo, sono venti secondi ricordate sempre di non saltare troppo non troppo ulti sulla nostra articolazione dobbiamo comunque tenere sempre le genocchi al stesso livello, perdito meglio il piede, cinque secondi poi avremo venti secondi di recupero stop, pesi, grazie prendete questa pesi, trenta secondi andremo in per la nostra per la stentena coscia però facciamo spinta in alto con i pesi, trenta secondi così siamo in isometria ma anche per le nostre spalle, divarico scendo giù due secondi bene, spinta piano piano non innalzare le spalle ok, ricordate che i gomiti sono in linea con le spalle scendo sulle cosce ci mettono 19 secondi spingo, spingo scendo, scendo uso questi movimenti per aiutarci veramente a modellarci tutto il corpo vai, vai, vai sei cinque quattro tre due e stop ok il prossimo sarà 45 secondi voglio fare sempre piccoli movimenti su, sottoria così facciamo piccoli bounce ma faremo con le braccia così facciamo jumping jack in apertura in due tempi con le braccia che salgono scendono in due tempi ok, così sarà due, due due, due ma per 45 secondi io sto usando i tre chili perché devo utilizzare anche il chilo o due chili dipende come che punto stai ok andiamo due, due chiudo due, due chiudo due, due chiudo e chiudo tutto insieme chiudo ancora apro, chiudo e apro, chiudo vai vai continui le spalle rimangono bassi però ancora 23 secondi vai 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 ancora 17 secondi ancora senti ancora 10 secondi la senti sulla spalla sicuramente vai due due piccolo bounce per tenere su l'intensità due stop ok ragazzi la prossima e sono per i nostri glutei 30 secondi per gamba e noi facciamo a fondo gli up l'avete magari visto sul challenge che è proprio in velocità la cosa importante è di tenere bene bene la gamba di appoggio genocchio adegnata con il pallone su e giù ma sto spingendo su questa gamba piccolo bounce perché dobbiamo recuperare e poi dare il masco durante i scatti però durante i scatti però mi piace comunque di fare un piccolo movimento anche durante il recupero ok ma ancora 8 secondi siamo pronti 4 3 2 occhio 30 secondi vai 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 spingo sul talone a terra vai vai respira spingo respira lavora adesso ragazzi prima ci siamo divertiti con l'aerobica perché è divertente ci siamo riscaldati adesso stiamo sulla fase di tonificazione ancora ancora 38 secondi vai vai spingo spingo e 3 2 cambio vado e su cambio gamba state cambiando cambiammi mi raccomando perché quando facciamo part o facciamo power 2 la mia tecnica power 2 non c'è tempo da perdere dobbiamo lavorare in velocità ora vai 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 siccome avremo un minuto di ricompero ragazzi vi chiederò di darmi una mano con i pesi voglio fare un po' di bicipiti 2 1 and stop ok prendete i vostri pesi facciamo un po' di bicipiti senza le gambe spalle basse rimango basse con le spalle ricordate che i muscoli sono quelli che ti aumentano il metabolismo muscoli sono quelli che ti danno la forma ancora su e giù dammi ancora 10 secondi e ti do 30 secondi di ritu però perché il nostro prossimo scappo è quello più lungo di tutti e dobbiamo prendere l'elastico e leghiamo le nostre caviglie aspettate basso poco poco qui ok mi legate le gambe andiamo a lavorare i nostri bellissimi bellissimi glutei l'elastico è eccellente per questo ok perché abbiamo un scatto adesso di un minuto e mezzo ok venuti a mezzo tanta roba ok cominci ok ricordate sempre che l'elastico deve essere largo sulla coscia così non si sente segare la la carne ok piccola marcia piccola marcia mi piace la musica è vero che è bello ok vai 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 piccola marcia minuto e 20 secondi se state lavorando fuori mi raccomando ragazzi mettete sempre la protezione solare sia sul corpo che sul viso così non ci macchiamo guardate il sole è bello fino a un certo punto poi diventa un forte invecchiamento un giusto bacio del sole ci fa benissimo alla carnagione vabbè ossa anche da serotonina ma troppo non ci fa bene ok piccolo passo piccolo passo da granchio 4 4 3 2 1 ancora 4 cambia ancora vai 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 touch torno centro torno centro marcia 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 comincerete se sentite troppo acida latino battete sulle mani sui fianchi gira 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 ancora gira 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 vado vado oh yeah pompa pompa ancora 15 secondi 15 secondi continui ricuperate per 10 secondi un cuscino un tappettino perché voglio andare giù a lavorare i addominali mentre lasciamo che i glutei si rituplano ci siamo stop prendi il tuo tappettino non slegare le gambe perché tanto ci servono fra un minuto e mezzo le nostre gambe legate perché ci siamo arrivati al punto massimo del nostro allenamento e adesso scendiamo giù aspetta per me spostare il microfono ok scendiamo giro e salgo ok roll down scendo e torno su ancora scendo scendo torno su scendo scendo torno ancora continuiamo torniamo su continuate giù continuate giù e su rimanete su verso e sinistra per gli addominali respira dai questo è uno scatto lungo dai 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 ancora datemi dieci secondi poi ritorniamo in piedi piano piano perché abbiamo le gambe legate quattro tre due uno ok cominciate a salire spostate i vostri tapputini l'elastico rimane intorno alle vostre caviglie ok scusate correggo poco poco il mio quadratura ok bene bene cinque secondi pronti per la marcia 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 ok eccoci qua marcia 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 ok minuti e mezzo di nuovo adesso ritorniamo indietro parte le che ho fatto a piramide dove facciamo scatti di diversa intensità lunghezza per fare il massimo ok lavorare sulle gambe le ginocchio sono sempre nel stesso livello direzione del punto medio dei piedi marcia marcia quattro four three two marcia qua marcia marcia four three two marcia marcia four three two total body total body facciamo un po' di tutto oggi abbiamo fatto il lavoro aerobico braccia marcia marcia poi abbiamo fatto il nostro glute un po' di interno coscia oggi non ci manca niente marcia marcia four three vi faccio touch back vaso touch diagonale busto rimane in avanti come contro un altro bilanciamento porto i talloni in giù per lavorare i glutei glutei ancora vai oh eccemente ragazzi ancora venti secondi e poi riprendiamo riprendiamo i nostri cappettini tra poco ok così sai che sta lì sai che dobbiamo andare di velocità ma questa volta possiamo staccare l'elastico prima di arrivare due uno and ok libere le gambe ma prendete il vostro cappettino lavoro in fretta lo so che io vi chiedo tanto ma non c'è tempo di perdere quando facciamo un allenamento di 45 minuti se le facciamo bene non serve altro ok non serve di andare inoltre mi stendi una gamba e faccio uno due cambi gamba uno due uno due uno due abdominale tesi ok immaginate che c'è un triangolo triangolo ciao triangolo tra le due anche osso delle anche e due e questo di mani piatto e trattenuto al lavoro con le gambe ok dopodiché dobbiamo salire prepararci per le nostre lunge knee ups che sono accedenti per i good day ancora 22 secondi dominare tesi mi raccomando vai 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 ancora 14 secondi vai 10 secondi ci siamo pronti per scattare no scattare no perché ti do 20 secondi ok ok su ragazzi per non perdere tempo spostiamo il nostro tappetino eccellente prepara la gamba ginocchio ben appoggiato sopra il talone 5 4 e facciamo 30 secondi per gamba vai su addominali tesi ma spingo su questa gamba proprio questa di sostegno provi di pensare che stai provando di spostare sotto di te il pavimento stai proprio spingendo giù vai 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 ancora spingo verso basso talone tutta la mia energia sta sul talone ancora 9 secondi continuate ragazzi poi 4 3 pronti per cambiare lato ora gira vado avete cambiato lato a volte quando ti leni ti vai in modalità stand by con la testa stai facendo tipo ok stasera faccio la spesa e poi magari vado a fare l'aperitivo con la mia amica però provi di concentrarti sul tuo lavoro dedichami i vostri 45 minuti e poi vai ok perché se io mi alleno con la testa ok spingo spingo giù 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 stop ok pesi e piccolo doppio jumping jack ma nel frattempo prendiamo i nostri pesi e facciamo un po' di bicipiti calmi calmi senza salti ricordate che mentre state lavorando provi di capire quale che stai facendo entri nel tuo corpo esattamente come facciamo con fluid o con lo stretching è un dialogo ok ogni giorno cambia qualcosa la potenza cambia qualche cosa ok relax le braccia adesso ci avete 30 secondi di recupero andremo a fare il doppio jumping jack 2 2 2 2 piccolo sobbalzo bevete acqua in questo momento se volete recuperare ancora 19 secondi molto importante idratare in estate specialmente con il caldo torido che sta succedendo sul continente perché è qualcosa di straordinario 40 gradi all'ombra mamma mia ragazzi ok 2 2 pronti per partire 3 2 1 andiamo 2 2 2 2 2 2 2 2 non stacco non stacco tanto i piedi da terra fatti caso non sollevo le spalle le spalle sono sempre basse i gomiti sono leggermente piegate vai 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 piccolo piccolo e tu comunque per 45 secondi sentirai il lavoro non necessita di fare più velocemente ok su su giù giù su su giù giù 15 secondi ancora vai vai ancora 9 secondi 7 secondi ancora 2 stop eccellente ragazzi ok rispira lascia le braccia bevi un po' di acqua la prossima è il nostro gran pie con spinta in alto con le braccia per lavorare interna coscia e spalle vi ho promesso un lavoro total body e non stavo scherzando ok 21 secondi recupero i pesi comincio a divaricare ricordando sempre che le devi lasciare che le anche e le punte dei piedi e dei genocchi si seguono ok ci siamo 5 secondi ok 30 secondi spinta spinta occhio guarda le mie spalle io non muovo le spalle muovo le braccia i gomiti sono sempre leggermente in avanti io con la coda dell'occhio dovrei essere in grado di vedermi i miei gomiti i gomiti indietro stressa il collo stressa il trapezio invece noi vogliamo tonire le spade 8 secondi continuate dai dai 5 4 3 2 and stop eccellente ultima 2 ultima 2 i nostri 2 scatti ragazzi ci siamo ottimo lavoro oggi ci siamo già 41 minuti eccellente ok la prossima è jump jack biometrico lavorando proprio i nostri gambe i nostri glutei 10 secondi ancora ancora 7 secondi ci siamo tante sole 2 1 pronti ok jump chiudo e le ginocchia seguono vengono avanti così mi vedi ok giù non lavoro di schiena permettere che le gambe mi frenino le gambe 5 secondi vai 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 2 1 stop ottimo scatto fra 20 secondi picchietto a terra con i piedi più velocemente possibile lo chiamo maniac e l'altra cosa ragazzi alla fine potete andare sempre fare il glutei challenge fai 5-10 minuti di glutei challenge di questo mese pronti 3 2 1 e vai io dopo devo andare in sala pesi con le ghisa vado a fare i glutei con le ghisa non fatti scherzi sala pesi ce l'ho sai che ti dico me la sparo un po' di peso ok relax eccellente prendete i vostri tappetini perché i pesi avranno un posto nel mio cuore per sempre perché comunque da personal trainer usavo spesso ma quasi solo sale pesi con i miei clienti quelli famosissimi moltissimi quelli veramente famosi andiamo sale pesi ed è avrà sempre il suo perché però ricordate anche che a casa se teniamo un thunderbell se teniamo due pesi è un elastico comunque le sale pesi facciamo a casa nostra perché abbiamo le nostre resistenze ok andiamo giù a fare il nostro biciclete 1 2 ci siamo inaltesi tira 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 e respira vai vai io ti faccio fare gli addominali poi se volete continuare in più e farli un poveriggio a fare il glutei puoi anche fare adesso anche se vi consiglio di non fare più di 45 minuti insieme per non inalzare il cortisolo però siccome c'è anche un allenamento di 5 minuti per i glutei se volete dici guarda sono sudata la voglio portare a casa dopo che abbiamo finito i nostri addominali corri su challenge di agosto e aggiungi un allenamento di 5 6 minuti di glutei vai vai 4 3 2 and 1 ok incrocia la sinistra sopra la destra e faccia una figura 4 con le gambe ok piega le gambe e chiudo in centro chiudo vai tira tira vai ancora 8 7 6 5 4 3 solleva con i fianchi solleva con i fianchi ancora relax recupera cambia la gamba porta su e vai 8 7 6 5 4 3 2 1 ancora 8 7 6 5 4 3 2 relax recupero giù ragazzi tanto sole oggi però è bello estate che bella oggi estate piego le gambe su e sollevo solo le spalle spalle 2 3 come se stessi provando di toccarmi i piedi però la cosa importante è di sollevare le spalle 8 7 6 5 4 3 2 ancora 8 7 6 5 4 3 2 and relax teniamo con un po' di fianchi laterali se non obliquo sto seduto sul gluteo incrocio guardo proprio l'obliquo e chiudo il laterale 8 7 6 5 4 3 2 ancora 8 7 6 5 4 3 2 e l'uno l'altra parte ragazzi intravediamo nel nostro arrivo ok 8 7 6 ancora 8 7 6 5 4 3 2 e l'uno bravi ragazzi bravi 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 ok che bello quando hai finito quando arrivi questo pezzo dell'allenamento dimmi quanto è soddisfacente guarda l'ho fatto mi sento molto molto contento con me stessa ok facciamo un po' di stretching perché ci siamo fatte tanto per il nostro corpo e ce la meritiamo direi proprio di sì mi giri di qua ok la prima cosa è proprio scaricarti completamente stai giù lascia proprio le braccia libere e respira lascia che il respiro torna normale respira espira e espira stai giù e destra e sinistra con la schiena le ginocchia e chiudo le ginocchia verso le mie ascelle e stendo una gamba stendo 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 chiudo stendo l'altra gamba relax torno centro incrocio la sinistra sopra la destra la porta giù verso la destra e guarda sopra la spalla sinistra torno centro cambio l'incrocio la destra sopra la sinistra e vado di là guardo di sopra le mie spalla torno centro ragazzi ginocchio in centro e venso ragazzi grazie per un altro allenamento meraviglioso insieme grazie perché spero che vi di sopra